Dopo la patatina piccante andiamo subito a comprare una bella palla per chi ci serve Assolutamente per andare a fare la challenge, let's go Andiamo a vedere le scarpe dall'altra parte adesso Perché siamo venuti nel reparto sport La zone, la zone, la zone Andiamo a centro calzatore Andiamo a centro calzatore Pallone, bro, pallone Andiamo a vedere il pallone com'è Questa o questa? Questa di mondiali? Sì Prendiamo questa? Andiamo Vai Ora servono le scarpe Andiamo a vedere le scarpe Veloce, 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 veloce Quali vuoi? Quali vuoi? Quali vuoi? Quali vuoi? Quali vuoi? Dai, scegli un paio di scarpe che ti piaccia Queste Ti piacciono queste? Devi che siamo qua Queste Queste? Sicuro? Queste Oh, deciditi Queste, queste Queste di Cristiano Ronaldo Queste di Cristiano Ronaldo? Te l'hai detto di Cristiano Ronaldo? Eh, le ho viste nelle foto quando ho calciato contro la Suarez Queste sono quelle che avevi Queste Ma perché non vuoi queste, Fra? Perfetto, anche per te Vuoi vedere che ti trovo la foto dove ce l'hai Cristiano Ronaldo? Vai Oh là, che spacco Perché? Guarda È della Phantom Phantom Allora, chat Ragazzi, scrivete nei commenti se sono da donna Lui pensa che questi sono da donna Queste non sono da donna Se no non te li compriamo Queste Secondo te? A me Io posso essere sincero Guarda Allora, non sto scherzando A me piacciono queste A me piacciono queste Queste ti stanno bene Allora, guarda 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 come ti sta male questo Guarda come ti stanno bene Questa ti metti una Guarda come ti stanno bene Allora, prenda questa Spaccala, Fra Fra Gira qua Guarda questa parte quante figlia Oh, mi sono stacco così Oh Ci stanno Alzati Te lo giuro Questi sono 32 Alzati Mamma mia 3 anni per alzati Sembra un copino Come è? Vedi che drippi? Vedi che drippi con il simbolo della Nike Bello grosso? A posto A posto Andiamo Andiamo Abbiamo preso tutto Abbiamo preso tutto Let's go Let's go Let's go Abbiamo tutto Le schiere Le schiere Le schiere Aprire Aprire Entrare 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 Le schiere Le schiere Veloce 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 Il tempo scorre Dai 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 Anche la palla dietro la schiera Dai Dai Let's go Buongiorno a tutti Eccoci qua Siamo tutti carichi Tutti pronti Guardate lì c'è La TikTok Ragazzi Chi vince vincere a quella Chi vince la challenge Vincere a quella Oggi prestano Mazzica prestano Anche se piove Non è un problema Non è un problema Ma come sta? È uscita tanto Che noi ti vediamo nei video Ci vediamo direttamente in campo Ci ho costretto tutti quanti A venire La porta è chiusa? Penso di sì Ho costretto tutti quanti A venire sotto la pioggia Speriamo che nessuno di voi Si ammala Perché sennò poi mi sento di cazzo Il problema è lui Dove no lui Il problema è lui Oh duro Prendi la palla Prendi la palla Sei pronto? Si Sei pronto? Si Challenge dura Fra Challenge dura Gioco con le TN Giuro? No vabbè Gioco con le TN raga Dai ci vediamo Ma cosa ci fa la macchina qua? Come sei? Stamattina? No ieri Ok Vamonos Sempre casino Va bene Dai dai Duri 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 Let's go Let's go Il primo che esce Il Maranza Clean Real Madrid Pronto Il secondo ad uscire Mini Sblito Anche lui Carico Prende il pallone E se ne va PSG Qua abbiamo Sassa Quello che si ti prende di scassa Che sta mettendo le lenti Ed è pronto Anche lui E qua abbiamo il Big Zublo Big Zublo Pronto Neymar Alcattac PSG Pronto Carico Com'è? Com'è giocarsi dalla pioggia? Com'è? Si Sei una femminuccia che chiudi gli occhi? No no Non farà femminuccia per favore Non vogliamo posti Io sono un vero Sono duro Ok pronto Il campo è lì Il campo è lì E noi siamo Ma mi hai già bagnato Tolita dal banco Apri dietro Fran Facciamo vedere che abbiamo tutto Acqua, stabilizzatore E la nostra coppa Pronti Bro non avevi detto che giochiamo con le TN bro No fretta Bro Cos'è sto scampo? Fran TN Non si è quanto costo Eh Neri Mamma mia Pronto Dai Cos'è cosa? Arrivano quelli al mio Mel che? Ehi Ehi Tutto a posto Fran Ehi Mettono te la vista Ok andiamo Let's go Non ci fai la TN Se ne fai di prima Ma questa è reale Swash la zone Eccoci qua ragazzi Nel campo C'è Tutti Guardate il mini è partito È partito il mini Il mini è partito Oh Oh mi ha fatto tutto Oh Mini Mi era da giù Oh my god Il mini Giù 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 Sotto la pioggia Come ne vengo Fa freddo Ma è odoro Allora Siamo pronti Per fare Posso Posso Vieni qui Sei pronto per fare La precisione challenge? Sì Va bene Tutti carichi? Qual è In che senso? Allora Venite qua dietro Che lo spieghiamo Oh In riga In riga Allora In cosa consistirà Questa precisione challenge? Molto semplice Avremo tre livelli Composti da tre Distanze Il mini avrà le distanze sue Perché ovviamente È più piccolo E ognuno di noi Avrà tre tiri Ok Quindi ci sarà Livello uno Livello due E livello tre Questa riga Del giudizio Ok Se vogliamo Aggiungiamo livello quattro Siamo tutti carichi? Il mini avrà i suoi livelli Ovvero il livello uno Livello due E livello tre Guardate ragazzi Sono già bravo Sono già bravo Scasso 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 Cos'è appena sbaglia Mi deludi Carichi ragazzi Taglia 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 Tagliare Sempre tagliare Pronti Let's go Si parte Boom Mini È il tuo turno Prendi la palla in mano Prendi la palla in mano Il tuo primo livello È questo fra Sei pronto? Mamma mia Ok ok Anche potevamo Potevamo sbagliare Bravo 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 Un applauso Un applauso Per i nostri mini Passa Il mini Non ha sbagliato Oh tu cerca di prendere Anche la scuola Oh vogliamo traversa il gol Fra Vogliamo traversa il gol Fra Serio vogliamo traversa il gol Fra Serio Va bene dai Va bene Va bene Vogliamo fare Traversa il gol Fai stasso Non ci stasso Oh Mini aspetta Oh Va 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 Vieni bro It's my turn bro It's my turn Vai Nema giulio Nema giulio Oh Siamo proprio lui Che nambo 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 Hai solamente due vite No no Hai solamente due vite Che scarsa Hai solamente due vite Mi è rimasto Mi sono rimasti Tu coricini Vogliamo fare il duro Non mi fa la rampia Hai due vite bro Se sbaglio un altro No no Facciamo che il livello No no Ok Uno Uno Zero Hai due vite Basta No 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 Ti ritirai Vai vai O vogliamo fare che il livello 1 L'ho sbagliato Mi attacco Stai a zero Facciamo che le vite Le abbiamo dal livello 2 E livello 3 Non si può sbagliare il livello 1 Ma scusa Facciamo così Tipo chi sbaglia Chi sbaglia Chi sbaglia non va avanti Rimane lì nel suo posto Che arriva prima Al traguardo No Mi dissocio Facciamo che si parte direttamente Al livello 2 del mini Ragazzi comunque mi dissocio Mini Oh ma Oh rag Ma il mini Cos'ha Ma il mini Non smira mai Che c'è Che c'è Che c'è Fermatelo Fermatelo Attenzione Younes La grinta Verso lui Oh e ha toccato per terra Hai due vite Ti sono rimasti due vite Vai fra Oh Oh mio addio Una vita Fra Ma tu non è neri Quello forte No ragazzi Lui mi ha segnato a giocare Dai Younes Hai l'ultima vita C'è da dire Che è venuto a giocare E dopo alla partita Complimenti Fuori Oh quanto sei bello Fra Quanto sei bello Fra Vai fra Vai fra Oh pop Ha toccato Ha toccato Ha toccato Replay Var 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 Ha toccato Ha toccato fra Ha toccato Non ci credo una vita Sayo Sayo cosa sta succedendo Sayo cosa sta succedendo Sayo cosa sta succedendo Raga Cosa succede qui Cosa sta succedendo Cosa sta succedendo Io c'ho due vite Prima ho sbagliato Questo A me mi chiamavano nei mari Fuori No franzo No Tu qui sta cittando Sport leader Oh franzo C'hai una vinta Come lui C'ho due vite Ah quindi te si sbagli Si è stato eliminato Mini questo è il tuo terzo livello Vieni qua Facciamo prima Un'intervista al Mini Mini si è carico Si è carico Sei pronto Nonostante la pioggia È tutto Toccalo 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 Non ti punta No No Eeeh Dario Puntacciono Ok Ma puntacciono Non vogliamo vedere il puntacciono Ok puntacciono Non vogliamo vedere il puntacciono Ah 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 bro Sei dimenticato Sei dimenticato Marino Bravo Bravo No No Eh sì Siamo a livello tre Chi vince si porta a casa questa Lui ne sa una vita E se sbagli Se sbagli Dal terzo livello La coppa di tiktok te la scopla Oh questo l'ha preso da tiktok italia Una chance No Una vita Siamo rimasti Io ho due vite ancora Ma al terzo livello Lo faccio a modo mio Come fai In che senso Ah Let's go Siamo qua A Santiago Bernabeo Due chance Non può smirare Fuori Si sta preparando mentalmente Togli pure la maglia Fuori Fuori Sembra facile Ma non è facile La porta piccola Sembra facile Vabbè The winner is Ragazzi The winner Winner No Cos'hai da dire Cos'hai da dire Cos'hai da dire Cos'hai da dire Credete sempre in voi No Attenzione Ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi Attivate la campanina Noi qua Salostate di San Diego Bernabeo Insieme a lui Insieme a lui Insieme a loro Insieme a tutti quanti Grazie Grazie mille 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 Adesso Questo è il nuovo Dell'altra squadra Andiamo a dire Adesso a casa Noi Noo Siamo alla prossima Salve Schi ma schi in faccia Nella zone Hoia chiuso Nella stritta Tutto dentro La sacoccia Ti assicuro Non è un film Schi in faccia Nella zone Hoia chiuso Nella stritta Tutto dentro La sacoccia Ti assicuro Non è un film Ti assicuro Non è un film Hoia chiuso Nella stritta Vuole soldi Non è un film